allora amici e amiche carissime appassionati della sacra scrittura che è la cosa il tesoro più prezioso evidentemente che ci abbiamo questo grandissimo patrimonio questo mare ultra immenso colmo di misteri perché dentro la sacra scrittura c'è veramente un mare infinito e sono molte più le cose che che non che non conosciamo o che non comprendiamo di questo grande patrimonio rispetto a quelle che invece conosciamo e comprendiamo quindi stiamo in un mare davvero grande esterminato speriamo anzitutto che vada bene per chi sta seguendo la diretta anche perché nella diretta c'è anche la registrazione di quello che andrà poi indifferita speriamo che non ci siano problemi tecnici filiamo questa puntata all'intercessione di san michele arcangelo dato che stiamo alla vigilia della festa anzitutto di san michele adesso anche degli altri due arcangeli ma tradizionalmente il 29 settembre è la festa del principe degli angeli del cielo a cui gli chiediamo anzitutto di proteggere dalle incursioni negative la nostra speriamo fruttuosa conversazione e anche di addentrarci questa sera con i giudici cominciamo i cosiddetti libri storici un grande mare magno perché si va dai giudici passando per il primo samuele secondo samuele primo re secondo re primo cronache secondo cronache e poi i libri dei macchabè un arco di storia di circa 7-800 anni dove appunto partendo dai giudici che sono il tempo immediatamente successivo a giosuè si arriva attraverso il raccordo di samuele al primo re ebraico che è saul un guaio dopo saul tutti quanti ricorderemo c'è davide poi c'è salomone poi c'è la tragedia progressivamente dopo anche a causa della brutta fine cioè del brutto termine della vita terrena fatta con da salomone come vedremo a suo tempo la divisione del regno la distruzione poi da parte dei degli assiri del regno del nord quindi del regno di samaria e poi le varie vicissitudini dopo gli assiri i babilonesi dove babilonesi persiani dove persiani alessandro magno gli ellenisti dopo alessandro magno gli ellenisti romani e così arriviamo al nostro signore gesù cristo dentro questo tempo diciamo così e che è tagliato trasversalmente da libri storici che terminano appunto con il ciclo dei macchabèi quindi arrivano praticamente alle porte della invasione romana e quindi poi della dell'avvento di nostro signore poi operano tutti quanti i profeti a partire diciamo così dall'antenato dei profeti dal primo che è che è elia e poi grandi profeti maggiori e minori elia non è hanno operato tra ufficialmente tra i profeti perché i profeti cominciano ufficialmente con il profeta esaia ma elia è un po come è un po come samuele è una figura carismatica proprio del tutto eccezionale quindi e tra l'altro di un'importanza straordinaria perché sappiamo bene che elia è stato associato da gesù stesso a san giovanni battista quindi è una figura straordinaria quindi entreremo in questo in questo in questo mondo è un mondo meraviglioso perché al di là cioè è chiaro che ci vuole sempre una lettura come dire introdotta i nostri incontri non è possibile andare a leggere tutta cantare la bibbia evidentemente no vogliono però fungere da come dire da 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 tentativo di aiutare una lettura vedremo in particolare il fine per esempio fondamentale per cui sono scritti libri storici perché non è semplicemente una cronistoria ma è storia sacra quindi è una presentazione dei fatti storici accaduti al popolo di israele ma letti alla luce della divina sapienza quindi una chiave di comprensione degli eventi accaduti al popolo di israele compresi quelli tragici quali le disfatte militare o cose di questo genere i libri storici sono pieni di battaglie di guerre o cose di questo genere allora una persona un pochino sprovveduta alle dice ma che è sta roba quella parola di dio se guerre tutti sti nomi tutte ste cose allora capiamo sempre che purtroppo amici ma purtroppo quando noi ci approcciamo al signore dobbiamo stare attenti dobbiamo stare perché noi ci approcciamo dinanzi cioè non c'è neanche una sillaba neanche un radicale ebraico diciamo così nella libia che non abbia la sua profonda ragione d'essere la bibbia è un'altra testimonianza del fatto che noi di dio sappiamo pochissimo perché ci sono tantissimi passi biblici che sono e restano scuri ci si sono scimentati fior di geni fior di intelligenze qualcosa l'abbiamo capito più o meno ecco qualche altro passo pochissimi quelli diciamo così utili a fini magisteriali sono stati oggetto di magistero autentico della chiesa ma la stragrande maggioranza rimangono un mistero e come mai che dio fa così non lo sappiamo come mai dio magari allo stato attuale almeno ad oggi ci sono dei passi biblici che non ci ha mai raccapezzato niente quasi nessuno almeno a quanto se ne sa perché poi sapete nei segreti delle certose che è successo con quegli uomini che e anche e anche donne da un certo punto in poi che stavano dalla mattina alla sera in meditazione i grandi padri del deserto san simone l'ostilita tanto per dirne una può darsi che loro abbiano capito tante cose e non ce le hanno mai lasciate scritte quindi stiamo sempre cioè quando stiamo in contatto con dio dobbiamo stare sempre fare sempre un passo indietro è un passo di profonda riverenza e più che mai con l'altissimo prima di aprire la bocca oltre che collegare il cervello bisogna collegare anche la fede divina e cattolica quindi il senso della sua immensissima grandezza e della nostra straordinaria e umile miseria così forse qualcosa funziona fuori di questi parametri amici miei proprio di dio proprio non capiremo proprio già se capisce poco ma fuori di questi parametri proprio stiamo allo zero assoluto ok quindi mi raccomando allora andiamo a fare una presentazione diciamo così globale perché poi questi questi capitoletti evidenziati nelle parentesi gli daremo un'occhiata allora anzitutto andremo a leggere con attenzione le considerazioni generali sul periodo dei giudici perché sono un pochettino ecco la l'overture il la la chiave di lettura di tutto e il testo ma anche poi dei libri storici seguenti a cominciare dal primo samuele c'è nei primi tre giudici personaggi relativamente minori otniel eud e samgar poi un grande giudice donna artefice di una vittoria militare attraverso il generale barack contro sisara vedremo qualcosa il grande gedeone e li vedremo cosa fa nostro signore per dimostrare che le vittorie sono le sue e non le nostre e poi il grande sanzone anche questo purtroppo precursore sotto certi aspetti di salomone perché sanzone è stato rovinato ed è caduto dopo le sue grandi glorie a causa delle donne tutti quanti conoscono più o meno la storia di sanzone e dalila dalila peraltro è diventato un nome molto caro proprio per questo motivo proprio perché è stata la rovina di sanzone a come dire a agli amici dei concorrenti chiamiamoli così con un eufemismo allora detto questo come brevissima introduzione andiamo a vedere subito cambiamo slide o meglio cambiamo condivisione andiamo esatto sulla sacra scrittura qui c'è sempre non proprio la esabla perché ci manca alla esabla ci dovrei mettere un altro testo perché qui abbiamo le versioni tra l'altro l'altro testo che ce lo devo mettere perché qui anzi no la 70 c'è abbiamo l'ebraico le due versioni della 6 la 70 e e la vulgata e la vulgata andiamo a vedere appunto questo passaggio 16 non soltanto 19 andremo anche un pochino oltre perché è alquanto interessante comincio con la lettura teniamoci alla versione 6 2008 come testo di base allora allora il signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalla mano di quelli che li depredavano allora una piccola notazione chi sono questi giudici i giudici sono dei reggenti diciamo così che hanno il compito in qualche modo di fare le veci del signore perché quello che era la volontà di dio per il popolo di israele poi si capirà molto bene era che chi è che li governa lui stesso ha dato le leggi ha dato l'alleanza ha detto tutto lo devono fare non c'è bisogno di un re umano li governa lui per qualche questione o per qualche situazione particolare ci pensa lui a suscitare persone persone adatte adatte a certi scopi dopodiché finita la loro missione se ne vanno in pace e continua il signore stesso a reggere e governare il suo popolo questo è stato il periodo dei giudici allora che cosa facevano quando sorgevano li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano ma neppure i loro giudici davano ascolto anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro qui comincia la tarantella attenzione abbiamo lasciato la volta scorsa ricordate la volta scorsa la fine del libro del profeta Giosuè e l'assemblea di Sichem Giosuè arriva davanti alla terra promessa e dice uè adesso mettiamoci d'accordo che volete fa? volete stare dalla parte del signore o volete servire gli dei pagani? lungi da noi l'abbandonare il signore per seguire altri dei Giosuè dice attenti guardate che ne siete testimoni contro voi stessi eh perché se servite il signore avrete benedizioni ma se lo rinnegherete lo tradirete saranno guai d'accordo? siamo testimoni contro noi stessi l'abbiamo sentito una volta scorsa no? quindi ci siamo lasciati così e che cosa comincia a fare Israele appena cominciano la terra promessa appena arriva la terra promessa scusate esattamente il contrario di quello che aveva promessa si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro purtroppo abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri i quali avevano obbedito ai comandi del signore essi non fecero così quando il signore suscitava loro dei giudici il signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice perché il signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano ma quando il giudice moriva tornavano a corrompersi più dei loro padri seguendo altri dei per servirgli e prostarsi davanti a loro non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata ok perciò l'ira del signore si accese contro Israele e disse poiché questa nazione ha violato l'alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce anch'io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Gesù lasciò quando morì così per mezzo loro attenzione a questo passaggio metterò alla prova Israele per vedere se custodiranno o no la via del signore camminando in essa come la custodirei i loro padri il signore lasciò sussistere quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le consegnò nelle mani di Giosuè allora vi ho accennato che qui si parla di storia sacra qui c'è una lettura di questi eventi numero uno la volubilità della volontà umana è chiaramente attestata avevano fatto le promesse e poi sono promesse del marinaio l'importante il fatto che ogni volta che questi si volgono indietro misericordiosamente il signore suscita un personaggio che cerca di farli ritornare nella letta via e che magari li libera anche dai suoi nemici come vedremo sia Deborah che Gedeone fanno questo l'atto di attenzione l'essere consegnati nelle mani dei nemici che sembrerebbe una sciacura no? in realtà non è una sciacura ma è un atto di misericordia perché ogni volta che Israele si allontana da Dio cade nelle mani dei nemici sotto l'oppressione di questo cosa deve fare? è costretto a gridare a Dio aiuto Dio manda il giudice e lo salva amici guardate questo pattern chiamiamolo così è una chiave di lettura universale valida anche oggi perché attenzione non è che Dio con il nuovo testamento con l'avvento di Gesù ha cambiato sono cose dell'antico testamento adesso con il nuovo non ci stanno più non è vero non è vero il popolo di Dio sussiste ancora e i suoi nemici o potenziali vessatori ci stanno ancora come mai Dio permette che i suoi figli siano vessati da malvagi e cadono nelle mani di chi li angaria e li tortura alla causa è che si sono allontanati da Dio il fine è che attraverso questa tortura ritornino a invocare il Signore questo è uno schema consegnato dalla saga scrittura lo vogliamo prendere per buono questa è parola di Dio che questo sia per buono per quanto riguarda i giudici non è argomento di discussione io dico che siccome Dio non cambia Dio non cambia anche la gente che diceva ma nell'antico testamento c'era Dio punitore vendicativo adesso nel nuovo testamento c'è Gesù che è misericordioso se è buono queste erano le cretinate che diceva un grande eretico Paolo di Samosata uno tra tutti che diceva che nell'antico testamento c'è il Dio cattivo invece nel nuovo c'è il Dio buono quindi buttiamo via l'antico testamento e ci teniamo soltanto il nuovo marchista non ha mai fatto questo mai mai ha insegnato il principio che il vecchio si comprende col nuovo il vecchio si legge alla luce del nuovo ma il vecchio illumina anche il nuovo questa è la visione cattolica quindi questo pattern ripeto lo rifacciamo il popolo dovrebbe essere fedele a Dio si allontana da Dio e comincia a servire gli idoli gli idoli non sono semplicemente gli idoli gli idoli oggi sono gli idoli del mondo no è le tre S sesso soldi e successo che succede che a causa di questo cade nelle mani di chi lo angaria di chi lo opprime di chi lo sferza perché torni a invocare il Signore se il Signore sarà invocato manderà qualcuno a liberarlo perché dopo la liberazione però non si ricominci a fare peggio di prima ma si ritorni a stare con il Signore perché se si ritorna a fare peggio di prima arriverà un altro ad angariarti e attenzione che la cosa interessante dice il Signore non li scaccia cioè li lascia lì come dire quasi a vigilare appena questi si ricominciano a ringalluzzire invece vuole qualcuno che gli vada a dare una sferzata per riportarli sulla letta via quindi capiamo anche come dietro la storia c'è la mano dell'Altissimo che la governa ovviamente il fine è sempre il nostro bene è la salvezza della nostra anima perché se cominciamo a proseguirci ad altri dei a idolatrare e a fare questo e quell'altro ti saluto a Roma si dice ti saluto scuffia addio ne va a repentaglio la nostra salute eterna e il nostro Signore non permette mai che mettiamo a repentaglio la nostra salute eterna senza che lui cerchi di darci una mano perché la salute eterna è il bene dei beni non la sanità temporale salute eterna è il bene dei beni allora dentro questa prospettiva andiamo a vedere qualcosa di quello che succede con vedete i primi tre capitoli sono di prologo poi comincia la storia dei giudici abbiamo visto questi primi giudici minori che non li affrontiamo andiamo a vedere direttamente il ciclo qualcosa del ciclo di Deborah che comincia nel capitolo quarto se non andiamo un po' troppo oltre allora guardate il pattern tipico del libro dei giudici al capitolo quarto eud era morto e gli israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del signore allora bene israel va gli sfù la azot hara bene adonai ve hud met quindi ricominciare in iosifu chi legge l'inglese attenzione che iosifu viene dal verbo yasaf da cui deriva anche il nome giuseppe iosef che significa letteralmente aggiungere ma anche fare ancora è una cosa ripetuta quindi lo fanno ancora cosa la azot fare hara il male bene davanti agli occhi del signore pattern continuo e allora che succede qui c'è per chi conosce l'ebraico il vav consecutivo si chiama questo lo sto evidenziando con l'evidenziatore quello è il vav dunque siccome è successo questo la conseguenza è che questo si chiama vav consecutivo qual è la conseguenza che vayem krem adonai be'yad yabin melech kenan la conseguenza è che il signore li consegnò nelle mani gli consegnò letteralmente proprio li vendette ecco nelle mani di yabin re di canan che regnava ad asona e il capo del suo esercito era sisara che abitava a caroset coim come conseguenza di questo altro vav consecutivo guardatelo quindi fanno il mare agli occhi del signore quindi il signore li consegna quindi gli israeliti gridarono al signore zahak significa proprio to cry out in inglese proprio gridare bene israel questo è il soggetto gridarono e l'adonai questo è il sacro tetragramma vedete sarebbe sarebbe Yahweh sto evidenziando perché gridarono perché gli abin aveva novecento carri di ferro e da vent'anni opprimeva duramente gli israeliti attenzione questo non dura una settimana vent'anni in quel tempo era giudice di israel una donna una profetessa debora moglie di lapidotto e la sedeva sotto la palma di debora tra rama e beter sulle montagne di Efraim gli israeliti salivano da lei per ottenere giustizia vedete anche il nome di giudice uno dei compiti fondamentali appunto i giudici erano anche proprio magistrati nel senso che siccome il potere il governo ce l'ha l'altissimo il potere legislativo ce l'ha l'altissimo il potere esecutivo ce l'ha l'altissimo lui che governa il potere giudiziario se avete qualche questione beh questo bisogna dirimerlo con qualcuno che faccia da arbitro e questa era una delle funzioni dei giudici salivano per ottenere giustizia e la mandò a chiamare Barak figlio di Binoam da Kedestineft e disse sappi che il signore di Israele ti dà quest'ordine va marcia sul monte Tabor questo è il monte della sfigurazione e prendi con te diecimila figli di Neftar e figli di Zambulon io attirerò verso di te al torrente Chison Sisara capo dell'esercito di Yabin con i suoi cari e la sua gente che è numerosa e lo consegnerò nelle tue mani Barak ridispose adesso attenzione a un altro passaggio fondamentale se vieni anche tu con me andrò ma se non vieni non andrò rispose bene verrò con te però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini perché il signore consegnerà a Sisara nelle mani di una donna Deborah si alzò e andò con Barak a Cades Barak convocao Zabulon e Neftarie diecimila uomini e Deborah va con lui ora fu riferito a Sisara che Barak figlio di Abinuam era salito sul monte Tabor allora Sisara era salito nei suoi carri eccetera la Deborah dice a Barak alzati perché questo è il giorno in cui il signore ha messo Sisara nelle tue mani Barak scende dal monte Tabor seguito da diecimila uomini il signore sconfisse davanti a Barak Sisara con tutti i suoi carri e tutto il suo esercito e Sisara scese dal carro e fuggì a piedi Barak li inseguì tutto l'esercito cadde e non ne scampò neppure uno ma Sisara era scappato fuggito a piedi verso la tenda di Jaele moglie di Keber il Kenita perché vi era pace fra Iabiene di Asola e la casa di Keber il Kenita Jaele uscì incontra a Sisara e gli disse fermati mia signora fermate non temere e gli entrò da lei nella sua tenda e te l'hanno nascose con una coperta le disse dammi da bere un po' d'acqua perché ho sete e gli aprì l'otre del latte gli viedero a bere e poi lo ricoprì e gli disse sta all'ingresso della tenda se viene qualcuno a interrogarti dicendoci che un uomo dirà nessuno Jaele moglie di Sikeber prese un picchetto della tenda impugnò il martello venne piano piano accanto a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia fino a farlo penetrare in terra gesto simile a quello che più avanti farà Giuditta con Oroferne vedete che queste donne ebraiche avevano questa 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 freddezza insomma di prendere i picchetti e di trapanare le tempie dei tiranni quindi dopo che vedete Sisera muore per mano di Jaele sopraggiunge Barak gli viene incontro e ti mostrerò l'uomo che cerchi e trova Sisera morta con il picchetto nella tempia ma non per mano di Barak ma per mano di Jaele come aveva promesso Deborah la mano degli israeli si è sempre ripresenta su Yabin finché però stroncato anche Yabin re di Canaan e poi ci fu c'è il cantico di Deborah molto molto bello no? questo diciamo che questa storia è emblematica ecco del 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 ciclo dei giudici andiamo a vedere velocemente la storia di Gedeone pronti a risentire sempre la stessa la stessa vita strocca capitolo 6 gli israeliti fecero ciò che male agli occhi del Signore e stavolta il Signore gli consegnano le mani di Madian per sette anni chiaramente non rivediamo sempre lo stesso Vav consecutivo no? Vajitem Adonai Be'yad eccolo qua il Vav la mano di Madian si fece pesante contro Israele Madianiti eccetera eccetera infatico veramente Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian eccolo qua e gli israeliti eccolo qua la stessa frase di prima va'yizaku bene Israel e l'Adonai gli israeliti ebbero gridati al Signore ci hanno messo sette anni per gridare al Signore mica la settimana eh a causa di Madian il Signore mandò loro un profeta un nabi che disse dice il Signore Dio di Israele io vi ho fatto salire dall'Egitto vi ho fatto uscire dalla condizione servile vi ho strappato dalla mano degli egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano li ho scacciati davanti a voi vi ho dato la loro terra e vi ho detto io sono il Signore vostro Dio non venerate gli dei degli amorrei nella terra di cui abitate ma voi non avete ascoltato la mia voce sempre questo il problema ve lo shemaktem becolì quindi dice we capito perché ti sta succedendo questo perché tu non hai ascoltato la mia voce hai fatto il contrario di quello che ti ho detto ecco perché amici miei se mi posso permettere questo sì sono come sapete lezioni biblie lezioni insomma incontri catechesi bibliche meglio ma hanno sempre uno sfondo esistenziale allora se io se volete un consiglio mi posso permettere un consiglio io lo faccio con me stesso quando ci capita un guaio non dobbiamo dire come pagani uccheiella magari pagani dicono anche un altro termine che non si può dire che non sta bene nella bocca di un sacerdote oppure ucche disgrazia oppure peggio ancora ah se Dio fosse buono non mi manderebbe questa disgrazia ah ma io che peccati ho fatto che cosa ho fatto proprio a me cosa ho fatto di male no la prima cosa che devi chiederti è proprio questo qua che avrò fatto punto la prima cosa non è detto perché nel nuovo testamento e veramente questo era un pochino presente anche nel libro di Giobbe nell'antico c'è anche una altra diciamo così lettura di mali che ci possano capitare anzi altre due un male può essere una prova quindi un modo con cui il Signore testa la nostra fede oppure questo è proprio da nuovo testamento può darsi che il nostro Signore ti mandi un male non per correggerti di qualche tuo di qualche tua pecca ma eh per la conversione di qualcun altro quindi è la sorte di quelli che seguono le forme di Gesù che trova diciamo in quella particolare figura nota nel mondo della mistica dell'anima vittima il clou quella non soffre le disgrazie perché c'ha qualche cosa di cui correggersi e capitano addosso le tegole perché devono salvare vanno per la conversione delle altre persone ma ordinariamente non è così cioè prima cioè capite cioè le cose che accadono hanno un senso tutte e se noi impariamo umilmente fatelo a metterci davanti al Signore sapete quante volte mi è capitato cioè perché anche se una persona non lo vuole ammettere la coscienza nel cuore glielo dice e a me qualcuno me l'ha detto eh padre lo so benissimo perché mi sono successe queste cose mi sono successe perché io me ne stramerito per quello che ho fatto e io sono stato zitto perché non ho nemmeno detto no che stai a di io non dico proprio niente perché parte del fatto che non sono in grado assolutamente di giudicare come dire ciò che accade ad un'altra persona che non so manco buona giudica quello che accade a me ma non gli dico niente perché non è esclusa che sia una cosa del genere non è affatto esclusa non la si può escludere a priori anzi è ampiamente attestata è normalmente quello che accade l'angelo del signore va a chiamare Gedeone e gli dice il signore è con te uomo forte e valoroso e guardate Gedeone gli rispose perdona mio signore se il signore è con noi perché ci è capitato tutto questo ma guarda guarda dove sono tutti quanti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto ma ora il signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian guardate come l'eletto del signore come dire in qualche modo però incarna l'umana debolezza almeno al momento della chiamata che dice ma il signore è con te magari con me guarda come siamo ridotti e sto grande Dio il signore che ha fatto uscire risalare dall'Egitto con i suoi prodigi aperto il Mar Rosso com'è che adesso non fa più niente ah ci ha abbandonato il signore ora ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian l'angelo dice senti t'ha buono vai con questa tua forza e salva Israele dalle mani di Madian ti mando forse io a questo punto Gedeone chiede dei segni d'accordo anzitutto ci sta prima il pattern di ogni racconto vocazionale dice l'obiezione della propria debolezza perdona mio signore come salverò Israele l'abbiamo già visto in Mosè l'abbiamo già visto in Aronne no credo a suo tempo quindi ricorderemo che ha seguito tutte le catechesi bibliche ecco la mia famiglia è la più povera di Manasse io sono il più piccolo nella casa di mio padre sentiremo Geremia dice ma signore io non so parlare sono giovane no il signore gli disse io sarò con te la grande frase echie immach e tu sconfiggerai i marianiti come se fossero uno solo la richiesta del segno famoso segno che dice guarda prendi la carne posa prima il segno che l'angelo brucia manda il fuoco e brucia le cose dette da preparate da 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 Gedeone poi gli chiede anche un altro segno andiamo avanti perché la cosa fondamentale è quando Gedeone va in guerra per liberare Madian vediamo che cosa succede questo è l'altro segno il vello sull'aia ecco allora il signore disse a Simeone stiamo a capitolo a Gedeone scusate capitolo 7 versetto 2 la gente che è con te è troppo numerosa perché erano partiti con un buon numero di persone perché io consegno i Madian nelle sue mani Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire la mia mano mi ha salvato vedete attenzione nel caso di di Barak Dio ha voluto che il capo dell'esercito nemico fosse sconfitto da Jael in modo tale che nessuno poteva dire sono stato io quindi è importantissimo quando Dio scende in campo e scende in azione fa sempre in modo che il beneficiario dei suoi benefici scusate la ripetizione insomma non è una costruzione molto felice il destinatario dei suoi benefici meglio non possa dire ah questa è opera mia deve vedersi che è opera sua San Paolo avrebbe detto Dio sceglie ciò che nel mondo è debole Dio sceglie ciò che nel mondo è stolto per fare grandi cose Dio sceglie le persone sempre più improbabili perché vuole che si veda che è sua azione che è sua opera che è sua gloria non solo perché questo è vero ma perché anche le persone possano comprendersi possano comprendere l'azione salvifica di Dio nei loro confronti perché se sono stati gli uomini Dio non c'entra niente allora che cosa si inventa Nostro Signore dice guarda annuncia la gente chiunque ha paura e trema torna indietro e fugga dal monte di Gala tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente ne rimasero 10.000 quindi con questo sappiamo probabilmente sarà stata detta in qualche versetto prima che abbiamo omesso che erano in 32.000 ne rimangono 10.000 troppi la gente ancora troppo numerosi falli scendere all'acqua e te li metterò io alla prova quello del quale ti dirò costruire un mecanote verrà e quello del quale ti dirò costruire un mecanote non verrà li fa scendere all'acqua e il Signore disse quanti lambiranno l'acqua con la lingua come lo lambisce il cane capite no? quindi si abbassano e bevono con la lingua come fanno i cagnolini o i cattini quando bevono invece quanti per bere si metteranno in ginocchio quindi metteranno in ginocchio e quindi prenderanno l'acqua a conchetta con le mani li metterai dall'altra parte secondo voi la maggioranza della gente che fa beve l'acqua con una persona civile no? quindi beve l'acqua con le mani a conchetta sono 10.000 che in quanti lambiscono l'acqua con la lingua 300 9.700 bevono l'acqua da persone civili e che cosa dice secondo voi il nostro signore? allora con questi 300 vai a combattere contro i madianiti il resto tutti a casa quindi da 32.000 siamo scesi a 300 siamo circa all'uno all'uno per mille uno per mille e quindi tutti a casa in quella stessa notte il signore di saggesione vai sul campo che l'ho consegnato nelle nelle tue mani e che cosa succede? di avanti di avanti di avanti guardate me e fate come farò io quando sarò giunto i limiti dell'accampamento come farò io farete voi quando io con quanti suono con me suonerò il corno anche voi suonare i corni intorno a tutto l'accampamento e griderete per il signore e per Gedeone guardate eh Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento e anche le altre tre schiere suonarono i corni spezzarono le brocche eccetera eccetera la spada del signore per Gedeone che cosa succede? ognuno rimase al suo posto attorno all'accampamento e versetto 22 mentre quelli suonavano i trecento corni che cosa succede? il signore fece volgere la spada di soscuno contro il suo compagno per tutto l'accampamento si sono ammazzati da solo ok l'esercito fuggì fino a Bezzitta verso Sera eccetera eccetera intanto Gedeone aveva mandato messaggeri di tutte le montagne a dire scendete contro i magianiti eccetera eccetera i suoi trecento uomini esausti per l'inseguimento ma anche qui vedete vedete guardate che allora vabbè adesso qui dovremmo leggere tutto 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 quanto però diventa complicato quindi il signore con questi trecento uomini in parte li fa ammazzare gli uni con gli altri e in parte sconfiggia l'esercito nemico quindi bellissima storia meravigliosa storia poi Gedeone addirittura vedete gli dicono che lo vogliono come governatore dice no non vi governo io vi governa il signore finita la missione io mi faccio da parte poi ci abbiamo ultimo ci abbiamo un pochino di tempo sì la storia di Sansone andiamo avanti un pochino con i capitoli allora pronti alla sola la vita strocca siamo al capitolo 13 gli israeliti tornarono a fare quello che è mano agli occhi del signore e il signore gli consegnarono le mani dei filistei stavolta la posta è più serata per 40 anni c'era allora un uomo di sorella della tribù dei Daniti chiamato Manoach sua moglie era sterile e non aveva avuto figli l'angelo del signore apparve a questa donna e le disse è della macinacina miracolosa di Sansone no ecco tu sei sterile e non hai avuto figli ma concepirai e partorirai un figlio ora guardati dal bere vino bevande nebrianti e non mangiare nulla di impuro perché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà la soio perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei filistei e così sarà quindi la storia di Sansone nasce e quindi il segreto della sua forza è il non passare il rasoio sulla sua testa tanto è vero che poi Sansone nasce cresce sto andando avanti qui tutta la storia dell'angelo del concepimento quindi poi parte cresce e comincia Sansone a fare le sue scordibande in mezzo ai filistei solo che comincia subito Sansone a aprire la porta di quella che sarebbe stata poi la sua fine perché comincia a fare un pochino di scordibande solo che vede una donna tra le figlie dei filistei e dice al padre ho visto una figlia dei filistei prendetela come moglie suo padre e sua madre gli dissero ma scusa non c'è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo perché tu vada a prenderti una moglie tra i filistei non circoncisi ma Sansone rispose al padre prendimi quella perché mi piace solo che questo questo primo è come dire questa prima debolezza verso la donna dei filistei dice non sapevano suo padre e sua madre che questo veniva dal signore il quale cercava un motivo di scontro con i filistei perché Sansone scende scende con il padre e la madre a Timna quando giungono alle vigne di Timna un leoncello gli viene incontro lo spirito del signore ruppe su di lui senza niente in mano squarciò il leone come se squarcia un capretto scese dunque però la donna e questa gli piacca e dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone non c'era più eccetera eccetera le mangia il miele eccetera eccetera comunque attraverso questa cosa scoppia la guerra contro i filistei ecco ci stanno tante le scorribande insomma di 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 Sansone è un pochino se mi si perdona un pochino l'accostamento un pochino ardito è un po' l'Achille del popolo di Israele ricordiamo insomma l'Achille del popolo che cosa combinava l'Achille in Acai lo canta mio Diva del penito l'Achille l'Apunestra che finita addosso e nutti agli Achei però a un certo punto succede andiamo verso la già la fine la storia di Sansone e Davila quella che purtroppo diventa tristemente famosa in seguito si innamorò di una donna della valle di Sorach che si chiamava Dalila allora i principi dei Filistei vanno da lei e gli disse seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande così potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo gli daremo ciascuno 1100 sicli d'argento vedete no 1100 sicli d'argento per andare a corrompere sono un pochino di più dei 30 shekel d'argento per tradire il nostro Signore Gesù Cristo questa era una notazione fuori programma Davila dunque disse a Sansone spiegami da dove viene la tua forza così grande in che modo ti si potrebbe legare per domarti Sansone le rispose se mi si legasse con sette corde d'arco fresche non ancora secchio diventerai deboli e sarei come un uomo calunque allora i capi dei filistelli portarono sette corde d'arco fresche non ancora secchio con le quali loro ricordo la guota era tesi in una camera ed ella gli gridò Sansone i filistei ti sono addosso ma egli spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa quando ho detto il fuoco e il segreto della sua forza non fu conosciuto Dali lasa in rabbia ti sei burlato di me mi hai detto menzogne spiegami come ti si potrebbe regale e gli racconto un'altra bugia se mi si legasse con funi nuovi non ancora adoperati eccetera eccetera Dali da prendere i filistei arrivano Sansone rompe le funi e li sgomina tutti quanti ancora ti sei burlato di me e mi ha detto menzogne qui continua altra bugia sette sesti le sette trecce della mia testa dell'ordita ne vissassi con il pet e diventerai debole non è vero quindi si va avanti allora e la dice ma come vuoi dire mi ti havo dentro il tuo cuore non è come già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la tua forza ora poiché lei non porto un nuovo ogni giorno e lo tormentava e gli ne fu annoiato da morire e un bel giorno dice la verità non è mai passato la soia sulla mia resta perché sono un azireo di dio d'azione di mia madre se fossi rasato la mia forza si ritirerebbe da me e sarei diventerai debole e sarei come un uomo qualunque e stavolta è la verità tutti quanti sappiamo arrivano i filistei catturano cioè questo lo fa addormentare sulle sulle sue ginocchia gli farà vedere il capo Sanzone e i filistei sono addosso e gli sveglia e non uscirà con un'altra volta ma stavolta il signore si era ritirato da lui versetto 16 versetto 20 lo prendono i filistei e capano gli occhi lo fanno scendere alla agganza lo legano con doppia catena di bronze giro la macina intanto la capigliatura piano piano comincia a ricrescere i principi dei filistei si radunano per offrire un gran sacrificio a Dagon loro dio per far festa e dicevano il nostro dio ci ha messo nelle mani di Sanzone il nostro nemico quando la gente lo vide cominciano a guardare il loro dio a dire il nostro dio ci ha messo nelle mani il nostro nemico che devastava la terra e il mare eccetera eccetera e lo chiamano e lo mettono a fare il giurlare di corte quindi far giochi alla sua presenza poi lo fecero stare fra le coronie Sanzone dice al servo era cieco gli avevano arruinato gli occhi dice lasciami toccare le colonne sulle quali poso il tempio perché posso appoggiarmi adesso il tempio era pieno di uomini e di donne vivono tutti i principi dei filistei e sul terrazzo circa 3000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre lui faceva i giochi allora Sanzone disse ai al Signore lo invoca dicendo Signore Dio ricorda di me dammi forza ancora per questa volta soltanto Dio e in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per i miei due occhi Sanzone parpa le colonne e poi c'è la famosa frase che io muoia insieme con i filistei i capelli erano ricresciuti si curvò con tutta la forza e il tempio rovino addosso ai principi e tutta la gente che viva là dentro furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti l'aveva uccisi in vita poi i suoi fratelli lo presero e lo portarono via risalirono e lo seppellirono fine della storia di Sanzone e fine anche della storia dei giudici ora amici fine anche quasi di questa catechese biblica siamo arrivati in dirittura ad arrivare il pattern è chiaro anche in questo caso nel caso di Sanzone compare un tema che sarebbe è un tema antico perché è un tema che era già comparso nel peccato originale purtroppo la donna quando diventa seduttrice è un tema che sarebbe ricomparso tragicamente anche in un altro grande di Israele che è Salomone come vedremo a suo tempo Salomone la cui sapienza regina del sud la venne a venerare che aveva dato prova nella vita di virtù straordinarie di saggezza straordinaria quando quando Dio non vorrei adesso parlarne prima del tempo gli dice guarda puoi chiedermi qualunque cosa e lui gli fa una grande richiesta gli chiede addirittura la sapienza non gli chiede i soldi non gli chiede le donne eccetera eccetera poi purtroppo al termine della sua vita si va a corrompere di brutto presso alle donne idolatre e succede il finimondo quindi c'è anche questo tema l'importante è che rimaniamo con la lezione di questo libro abbiamo sentito a ogni grande giudice importante c'è sempre lo stesso pattern Israele ricomincia a fare ciò che è male lo mettono nelle mani di Madian dei Finistei o di altri gridano sorge il giudice misericordia liberazione che Dio fa attenzione a dimostrare come sia opera sua e non degli uomini perché per gratitudine finalmente si mettano a servirla un pochino di vita buona e poi ricominciano quindi capite anche come molto del cuore dell'uomo è veramente semplificato attraverso questa vicenda e queste vicende del popolo dell'antica alleanza bene penso che per oggi ci possiamo fermare la prossima volta cominceremo i libri di Samuele il ciclo di Samuele la storia di Samuele che ci porterà all'avvento del regno in Israele con Saulo appunto Davide e Salomone alla prossima e che Dio vi benedica la Santa Vergine sempre vi protegga di Samuele di Samuele